Un grande accordo tra il gruppo Arvedi e il gruppo Rizao che consentirà di portare in Cina la vera tecnologia italiana dell'acciaio. Da Cremona la possibilità di ragionare in modo internazionale per difendere le prerogative del nostro territorio e ridare valore, ridare il lavoro soprattutto. Queste sono le risposte che oggi noi siamo in grado di costruire. Il manufatturiero italiano è un punto di eccellenza assoluta, non lamentiamoci, non guardiamo al nostro ombelico, guardiamo alla grandezza che nei decenni del dopoguerra abbiamo costruito e ancora oggi possiamo costruire. Un grande grazie quindi alla capacità di innovazione e alla capacità di guardare alto, di allargare l'orizzonte che ancora una volta l'industria italiana attraverso il gruppo Arvedi riesce a mettere a disposizione del nostro popolo. Questa è la vera educazione che noi proponiamo ai giovani del nostro paese.